Grazie a tutti. Tra tutte le cose che potevamo chiedere, per rinviare questa partita, questa è l'unica che lo potete fare, questo black out improvviso che non ci ha permesso di giocare. E a che ora l'avete saputo voi? Perché eravate lì, dovevate giocare alle 18 al Palazzumbo? Ci siamo ritrovati verso le 5, però purtroppo proprio in quel momento abbiamo saputo che non c'era luce in quasi tutti i palazzetti presenti a Brindisi e abbiamo dovuto aspettare nella speranza che succedesse qualcosa, ma inutilmente. Federica, la vostra fortuna è stata quella invece di giocare sabato, situazioni del genere ti sono mai accadute di black out elettrici, cose simili? No, una volta a Milano è successo che è andata via la luce, abbiamo interrotto la partita e poi l'abbiamo rinviata a un'altra data. Perfetto, quindi se accadono a Milano queste cose, può succedere veramente dunque. Parlando invece della tua gara di sabato, avete vinto la quarta vittoria consecutiva contro Trani, dici un po' di più sulla gara. La partita è iniziata bene, abbiamo dato un distacco di 15 punti all'altra squadra, poi hanno rimontato e invece poi successivamente abbiamo ripreso il punteggio e siamo andate sopra di 15 punti. E niente, poi alla fine la partita è finita 70-56. Ok, perfetto, facciamo una cosa, mi hai anticipato perché adesso c'è il servizio, quindi noi mandiamo adesso in onda il servizio sulla gara tra Asterix e Trani e poi ritorniamo con Federica a parlarne. Ok. Partita dura a quella che ha visto impegnate il sabato alle 20 le ragazze dell'Asterix Brindisi contro Trani. Le ragazze del presidente Maruccia sono scese in campo con al braccio un nastrino giallo in onore di due maro italiani ancora sotto processo in India. La squadra Brindisi ha mostrato sin da subito padronanza del parquet di casa, vedendole rivale a distanza sino al massimo di vario di 15 punti. Nel secondo quarto, forse sicure del risultato, Rongone e i compagni hanno abbassato la guardia permettendo alla squadra di Trani di rifarsi sotto, recuperando gran parte dello svantaggio. Dopo la pausa lunga, invece, le ragazze Brindisi hanno il decisimo torri e sono riuscite nella lunga decisiva, quello che le ha permesso di controllare tranquillamente il match nell'ultima frazione di gioco e terminare la gara con il risultato di 70-56. Tanti gli errori da sottocanestro, purtroppo, dovuti al nervosismo e mancanza dell'allenamenti per le giocatrici di coach Armito, che tra i tanti impegni lavorativi e familiari avevano svolto soltanto una seduta durante l'ultima settimana. La gara è stata molto spigolosa. Alla fine del terzo quarto, per dare un'immagine di quello che è stato il match, lo starting five dell'Asterix aveva già raggiunto i quattro falli. Quello che conta, però, alla fine è la vittoria e anche stavolta Panerete e compagni ce l'hanno fatta. Il progetto del presidente Maruccia è partito così nel migliore dei modi. Importante vittoria, quindi per 70-56. Federico ha parlato di una gara molto spigolosa, perché alla fine del terzo quarto tutto lo starting five aveva già subito, l'arbitro aveva già fischiato quattro falli. Com'è stata la direzione di gara arbitraria? Un po' confusa forse? Le arbitri hanno fischiato abbastanza falli. Diciamo che un complessivo è stato 28 falli per noi e 22 falli per l'altra squadra. Quindi diciamo abbastanza. Non è importante, sì. Due della nostra squadra sono uscite per 5 falli, mentre io e altre 4 ragazze avevamo 4 falli. Tu hai fatto una partita? Io ho fatto una partita, non delle migliori, però... Non diciamo lo scout di Federica qual è stato per il numero di punti, perché non c'è stato scout, potremmo dire. Comunque, passiamo avanti. Parliamo di basket femminile della tre. Latina Futura Brindisi. La Futura Brindisi ha vinto per 60-56. Anche se i laziali erano ultimi in classifica, non è stata una gara semplice, quella affrontata dalle ragazze di coach Santini. Ora le ragazze sempre di Capitanate, da Nene di Ene, non attenuano altro che un passo falso dell'Atena Roma per tornare in vetta alla classifica. Attualmente sono seconde, visto che hanno perso una sola gara. Daniele, tornando a te invece, tornando a questa partita che non c'è stata, parliamo più in generale dell'Enel Basket Under-19. Si nata adesso una sola vittoria, quella all'esordio contro la Stella Azzurra Roma. Come vi spiegate questa mancanza dei risultati? Beh, dobbiamo dire che noi siamo una squadra molto giovane rispetto alle altre squadre. Infatti nel nostro gruppo sono presenti molti ragazzi del 96 e del 97. Questo ci fa capire l'importanza che è dalle nel basket Brindisi sul futuro. Infatti si punta molto sul futuro, sull'Under-19 che sarà quella dell'anno prossimo. Questo però serve molto a loro, ma serve anche molto a noi ragazzi del 94. Ovviamente questa differenza di età con le altre squadre che ci separa si fa sentire molto spesso. Infatti incontrando squadre molto preparate come Roma o Roseto abbiamo subito un po' questa differenza di esperienza, possiamo dire. Nonostante ciò in queste ultime partite abbiamo visto dei miglioramenti che ci fanno pensare a un futuro positivo. Però noi siamo molto concentrati e soprattutto siamo molto affamati, vogliamo incominciare a vincere. Soprattutto il ruolo che ci dà il nostro coach Giancarlo Giarletti è quello di spronare quelli più giovi di noi, insegnarli proprio ad aiutarli ad andare avanti. Ma comunque dobbiamo sottolineare il fatto che si punta molto sul futuro. Informo anche Monica Bastiani la settimana scorsa dicendo che l'Enel è una delle squadre più giovani tra le Under-19 di categoria, quindi bisogna anche comprendere questo fattore. Daniele, tu vieni poi da un'esperienza al di fuori di Brindisi che è quella che hai vissuto con la banca Tercastermo, quindi hai già assaggiato la Serie A con la prima squadra. Che differenze hai notato venendo invece qui a Brindisi? Beh, allora dobbiamo dire che ogni settore giovanile in Italia ha un suo tipo di struttura a livello proprio per quanto riguarda di società, ma ha anche struttura diversa nel tipo di allenamenti. A Teramo mi sono trovato per quattro anni molto bene, ma devo dire che anche qui mi trovo altrettanto bene. Il rapporto con i compagni e con l'allenatore è lo stesso ed è, se non quasi, migliore. Vorrei dire che fino adesso mi sono potuto avvicinare anche più a casa, in quanto anch'io sono di Gallipoli, quindi è uno stress minore per me. Però devo dire che è una società molto seria e che ci crede nei giovani, quindi mi trovo molto bene. Quindi non si è affatto pentito, diciamo, della scelta di aver lasciato Teramo per Brindisi, anzi? La mia non è stata una scelta di lasciare Teramo per Brindisi, poiché purtroppo Teramo è fallita, cioè non per sua volontà. Però sono molto contento di essere capitato qui a Brindisi e essere riuscito a venire, perché sapevo che era una società molto seria che ho voluto proprio... Potrà valorizzarti anche in futuro. Beh, speriamo. Anche Federica ha fatto questo trasferimento da Milano, però questa volta è tornata a Brindisi. Che differenze hai trovato rispetto a sette anni fa, quando hai lasciato Brindisi per andare a Milano? Beh, allora, innanzitutto è diverso la motivazione per cui sono tornata a Brindisi. Io sono andata a Milano per studiare e mi sono laureata, ho iniziato a lavorare lì, però allo stesso tempo non ho mai lasciato la palla canestro e giocavo lì in una squadra di Serie C. Poi sono tornata a Brindisi e questa nuova società, l'Asterix, stava mettendo su una squadra all'interno della quale c'erano delle compagne che avevo lasciato otto anni fa e quindi ci siamo riunite tutte insieme e abbiamo formato questo gruppo, un gran bel gruppo. Puoi ricordare qualche nome? C'è tua sorella Andreana? Poi c'è Mariana Saracino, Marina Belfiore, Maria Mariutti, Rita Panarese, Federica Sciscio, Elisa Cagliulo. Diciamo che la squadra è nuova, ma i nomi sono più che conosciuti nell'ambiente brindisino. Sì, 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 assolutamente. Poi loro sono sempre rimasti qui a Brindisi, hanno giocato in diverse squadre e quest'anno ci siamo ritrovati tutte all'interno di questa società che per la prima volta affronta appunto il campionato femminile e speriamo vada bene. Per il momento sta andando tutto bene. Quindi incrociamo le dita. A Milano poi giocavi con la comica Jeffy Gucciari, quindi volevo sapere anche sul parquet lei che tipo di personaggio è? È una giocatrice abbastanza seria. In televisione faceva ridere, in campo era molto seria appunto, dava consigli alla squadra. Il trauma è stato quando ci siamo ritrovati tipo 300 persone a vedere la partita e noi non ci aspettavamo assolutamente tutto quel pubblico e quindi abbiamo giocato malissimo, abbiamo perso la partita tipo di 40 punti. Questa è una scusa che trova Federica Rongoni per dire che ha giocato male una partita, però... La gente veniva per chiedere gli autografi, le foto e noi non capivamo niente. Non a te, le tue compagnie autografiche, ovviamente. Chiediamolo per gli amici da casa nel caso poi pensano qualcosa di stare. Parlando un attimo di basket maschile, tornando sulla DNB invece vi passo a leggere i risultati di Ostuni e Francavilla perché l'Ostuni contro il basket nord barese ha perso per 60 a 67, quindi notte fonda per l'Ostuni. L'avevamo anticipato anche nel numero di Blue Basket, uscito venerdì senza colonne. Così è stato perché seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Romani mai entrati veramente in gara contro la capolista di Bari. Solo nell'ultimo quarto di gara i gialloblu sono riusciti nell'impresa di superare di un punto la squadra barese però poi non c'è stato niente da fare, quindi il basket nord barese ha vinto sul campo dello Stuni per 67 a 60. Il Francavilla invece è seconda vittoria perché contro la 2S Martina vince per 79-82 quindi diversa la situazione in casa del Francavilla che continua la sua rincorsa alla testa della classifica. Con una prova di grande carattere inoltre la formazione di coach Oliva riesce ad avere la meglio della squadra tarantina aggiudiscandosi sul filo di lana altri due importantissimi punti. La prossima domenica l'avversario sarà la formazione di Pescara sul parquet del San Francesco. Tornando a noi, Federica, nonostante fosse una gara di basket femminile abbiamo visto molti contatti, tra virgolette, maschi nella partita di sabato. Sì, abbastanza. Poi c'era una giocatrice che proveniva appunto dalla Serie A non chiedermi come si chiama perché non lo so assolutamente affrontando per la prima volta il campionato dopo 8 anni, non conosco nessuno che comunque ti portava ad avere anche dei contatti abbastanza pesanti sotto canestro ma comunque tutto il campionato è all'insegna delle gomitate, spizzoni e... Parecchio agonismo quindi. Abbastanza sì. Quindi chi rimprovera il basket femminile di avere meno scontri, meno agonismo rispetto a quello maschile tu cosa gli rispondi? No, no, assolutamente no. Noi ci lamentiamo molto meno forse degli uomini che invece sono sempre lì a urlare, noi no assolutamente. Quindi devo chiedere a Daniele giustamente se voi uomini state sempre lì a urlare, vi lamentate spesso o siete differenti dalle ragazze? Bah. Non è che... Magari loro no, non lo so. Già l'inizio della risposta di Daniele è tutto un programma. Sì, non è che stiamo lì a lamentarci per ogni singolo contatto però se ovviamente ci lamentiamo è perché comunque il contatto è stato abbastanza duro. Cioè non... Quindi smentito. Federica, voglio chiedere poi, avete avuto un problema, tornando un attimo seri, con gli allenamenti? Vuoi parlarcene un attimo sulla concessione del campo per allenarvi? In realtà gli allenamenti sono sempre un terno all'otto perché non sappiamo mai quando ci alleneremo. Facciamo un allenamento fisso e poi non sappiamo se ci alleniamo il lunedì, il venerdì perché ci sono stati dei vari problemi con le palestre poi nello specifico non so quali problemi ci sono stati però abbiamo sempre problemi ogni settimana. Daniele, come si prepara la gara come quella che è un derby appunto come quella che deve esserci oggi pomeriggio tra Aurora e Denel Berindisi? Beh, allenandosi duramente è sempre concentrati poi soprattutto quando è un derby lo si sente di più rispetto alle altre partite quindi gli allenamenti sono molto più intensi, c'è una consapevolezza maggiore quindi ci si prepara in un modo speciale possiamo dire rispetto alle altre partite purtroppo non abbiamo così giocato non per causa vostra. Passiamo adesso a parlare della Serie C regionale quindi passo a leggere i risultati della settima giornata della Serie C regionale abbiamo Lecce-Castellaneta 68-72 Assi-Cerignola 77-88 Eagles-Cellie 64-75 Trani-Santeramo 71-72 Castellana-Invicta 94-71 Ruvo-Nardò 70-79 Terlizzi contro Fasani invece 59-62 Vi leggo anche la classifica che vede in testa Ccelli con 12 punti insieme a Cerignola Nardò 10 Ruvo 10 Terlizzi 10 Castellaneta-Igols-Santeramo 8 Bari-Castellani-Invicta e Fasano 6 Trani-Bari-BK Lecce 2 Assi purtroppo ancora a 0 punti Prossimo turno Invicta Adria-Pallacanestro-Bari Andrea Pasca-Nardò Assi-Brinisi Valentino-Castellaneta-Igols Rientrami in studio e sono con Lilli Eh sì perché siamo in direttura d'arrivo di questo nuovo appuntamento di Blue Basket Ma prima di finire eccola qua E' la prima pagina dedicata al basket di Senza Colonne in edicola domani E quindi Lennart ritrova il filo e domina Pesaro Ottima prestazione di Reynolds in regia Bucchi soddisfatto Vittoria numero 3 conquistata contro una grande domani in edicola Con Senza Colonne All'interno ovviamente Come sempre Un inserto veramente molto ricco di quella che è stata la giornata di basket che ci siamo lasciati alle spalle ieri Vi ricordo l'appuntamento Quello di domenica prossima Con la diretta della gara tra Brindisi e Monte Granaro Noi veramente adesso siamo in chiusura Io ringrazio Federica Longone per essere stata qua perché ovviamente le presenze femminili sono sempre gradite in questo ambiente maschile Però fanno piacere, giusto Daniele? Assolutamente Che se non sei che monotonia Ringrazio anche in bocca al lupo per il tuo campionato Daniele Pacella In bocca al lupo per i tuoi campionati Io ringrazio Marco Rizzo E vi rimando all'appuntamento di lunedì prossimo alla stessa ora Buonanotte a tutti